Il cinema sopra Taormina torna a casa. Fino al 25 giugno potremo rivedere le tante immagini cinematografiche dei film girati a Taormina. Sono 43 film, tutti scanditi dal 1919, l'Appel du Sangue, fino ai nostri giorni. È un escursus e una visuale abbastanza inedita di Taormina. Nel momento in cui ho iniziato a raccogliere questi materiali, non immaginavo minimamente che Taormina potesse essere così tanto protagonista sui materiali pubblicitari dei film. E immagino sempre questi materiali, per esempio uno dei più bei pezzi è sicuramente l'immagine meravigliosa con Anna Maria Pierangeli che dipinge al teatro antico. Immagino quei manifesti nel 1950 campeggiare in America e in tutte le altre parti del mondo. L'immagine meravigliosa dell'ight touch che diventa un vero e proprio spot cartaceo di Taormina. E così via, per non parlare dei film importanti come l'avventura di Michelangelo Antonioni, di Piazza San Domenico, Le Grand Bleu, sempre al San Domenico, oppure Il piccolo diavolo che è anche là un piccolo spot in varie location di Taormina. Ma poi come si fa a non parlare anche dei film più recenti, del grande grosso e verdone. No, ve prego, mi rifate l'ingresso per favore che mi ho ripreso bene. Ma ora ci devi far riuscire per rientrare, con questo caldo, dopo 15 ore di mattina. Eh dai, prego, dai, ma voglio riprendere bene questa ragazza, dai, 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 iniziate. Dai, vai, vai, vai. Sono i tempi, eh, azione, vai. Le occasioni sono tante, il turismo culturale, il turismo legato al cinema, è sicuramente un segmento che va tenuto in considerazione. Oggi c'è il cineturismo, è un fenomeno, è un segmento turistico, è un fenomeno di massa. Là dove si girano i film, là ci sono anche i turisti. Quindi è una cosa che sicuramente andrebbe approfondita e dovrebbe diventare qualcosa anche di più stabile, perché quella è una rappresentazione di una parte della grande storia di Taormina. Nella splendida location della Chiesa del Carmine, fino al 25 giugno, tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle 11 alle 12.30 e dalle 17 alle 22, sarà possibile ammirare la suggestiva mostra di manifesti e di fotografie e il cinema sopra Taormina. Un momento indimenticabile per ripercorrere attraverso i materiali cinematografici che hanno visto protagonista Taormina. Grazie a tutti.